cari amici ben trovati siamo al culmine dell'anno liturgico la solennità di nostro Signore Gesù Cristo re dell'universo certo questo titolo monarchico affibbiato a Gesù dalla liturgia può sembrarci oggi qualche cosa di strano di fuori luogo per noi la dimensione monarchica è una dimensione tutt'al più che può creare una certa attrazione come vediamo nel nostro tempo ci richiama immediatamente una dimensione di assolutezza di dominio e quindi di sottomissione ma quando parliamo di Gesù re forse dobbiamo andare a prendere il senso di questa parola dal sanscrito dove rags è un'espressione che indica il risplendere indica la bellezza e nel mondo orientale la parola re non è semplicemente il riferimento al monarca che comanda ma colui che risplende della bellezza di ascoltiamo come Gesù re risplende della bellezza di dio nel vangelo di questa domenica dal vangelo secondo luca in quel tempo dopo che ebbero crocefisso gesù il popolo stava a vedere i capi invece deridevano Gesù dicendo ha salvato altri salvi se stesso se lui il cristo di dio l'eletto anche i soldati lo deridevano e si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano se tu sei il re dei giudei salva te stesso sopra di lui c'era anche una scritta costui è il re dei giudei uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava non sei tu il cristo salva te stesso e noi l'altro invece lo rimproverava dicendo non hai alcun timore di dio tu che sei condannato alla stessa pena noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni e gli invece non ha fatto nulla di male e disse Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno gli rispose in verità in verità io ti dico oggi con me sarai nel paradiso ecco Gesù ci viene presentato su quel trono di gloria che è la croce e la cosa strana è che mentre lui è sul suo trono di gloria debba ancora ricevere delle accuse gli siano poste delle esigenze gli vengano fatte delle provocazioni come vedete iniziano i capi del popolo no se tu sei il cristo scendi dalla croce poi continuano i soldati che si uniscono a questo coro diffamatorio e poi alla fine luca ci racconta di uno dei malfattori che chiede a Gesù un intervento che dia prova di quello che è sappiamo che un altro malfattore interviene in maniera totalmente differente ecco se notate nel leggere questa pagina di Vangelo quello che appare con evidenza è che tutte e tre le categorie di persone che ho citato si rivolgono a Gesù con un medesimo invito salva te stesso come se questa fosse la strada della sua e della nostra salvezza salva te stesso in realtà Gesù non è preoccupato di salvare se stesso è attento a un disegno altro a una prospettiva diversa differente di vita è attento a proiettare la sua esistenza nella volontà del padre è lì sotto l'accanimento malvagio torturatore infame degli uomini peccatori ma nello stesso tempo è lì per donare la sua vita quindi non è preoccupato di salvare se stesso è attento a donare se stesso ecco ai piedi della croce sempre siamo posti dinanzi a questo fondamentale richiamo vedete avere il crocifisso nelle nostre case vedere il crocifisso lungo le nostre le nostre strade guardare al crocifisso in magnifiche edicole che segnano i luoghi gli ambienti la storia della nostra città dei nostri paesi diventa inevitabilmente il prendere coscienza che posso anch'io donare la vita senza preoccuparmi di salvare me stesso forse proprio per questo il crocifisso è un segno non da tutti condiviso condivisibile perché domanda di diventare partecipi di una logica altra di una logica differente di un progetto di vita che non è calcolabile non è pianificabile in funzione soltanto di noi stessi ecco ricordiamoci che gesù sulla croce prega per noi ed è re perché proprio nell'eucarestia che celebriamo ogni domenica lui continua a presentare al padre lo splendore della sua obbedienza la sua vita splendida offerta per la nostra salvezza ogni eucarestia è celebrazione di cristo re e in ogni eucarestia riconosciamo che lui è il re buono il re bello che dona a se stesso che offre la sua vita per la nostra salvezza buona domenica di cristo re a tutti voi e l'augurio di continua di continuare a prepararci al vangelo di ogni domenica ci aiuterà nelle domeniche di avvento don gabriele un sacerdote giovane e quindi ci aiuta anche a cogliere la freschezza dell'annuncio del vangelo e ci prepareremo così al natale ritorneremo poi su questi schermi per essere compagni del vangelo di gesù quel che conta è il suo vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra esistenza un saluto a tutti voi il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza per sali patri il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza il vangelo proclamato accolto vissuto dentro la nostra salvezza